Ciao a tutti e benvenuti! In questo video vi mostrerò come costruire un decoder di DCC con Arduino. Per interfacere il mio Arduino Uno con il DCC BUS, utilizzo il DCC Shield che ho presentato in un video precedente. Se vuoi costruire questo Shield, potete trovare il progetto Eagle in mio repository GitHub. Il link è nella descrizione. Ho collegato i pinali digitali dell'Arduino con due LED, su un piccolo breadboard. La mia stazione di DCC è anche un SPROG. SPROG è potente generare DCC signal, grazie a un piccolo booster built-in e è supportato da molti software. È molto utile per testare i dispositivi DCC. Il schizzo che funziona su Arduino è disponibile su Github ed è utilizzato il fantastico NMRA DCC di Alex Shepard. Il mio laptop funziona l'opensource programma Rockrail. Ho già configurato l'interfaccia corretta per parlare con il SPROG e sul plan di traccia, ho aggiunto un signale con l'addressa del mio decoder. Se darei potenza al DCC bus, posso controllare i due LED, cambiando il status del signale. posso controllare i due LED, posso controllare i due LED, posso controllare i MOSFET per controllare i solenoidi del turn-out. In Rockrail posso aggiungere il turn-out con l'addressa corretta. e, come vedete, può controllare i due LED. Grazie per la visione. Grazie.